Buonasera amici ed amiche della Palamuoto e ben ritrovati con questo consueto appuntamento dedicato agli europei di Belgrado. Quest'oggi è arrivata la quarta giornata di rigare con buone notizie soprattutto in Casa Italia. Partiamo come di consueto dalle donne dove la mattina è illuminata dalla prova di forza di Spagna e in particolare del nostro Sette Rosa che continuano entrambe la loro marcia trionfante verso la fase eliminatoria. Le pratiche contro rispettivamente Francia e Germania vengono sbrigate con imbarazzante felicità alzando i dovuti interrogativi sull'inalzamento delle partecipanti al torneo che ha aumentato di fatto le gare con divari tecnici una volta insormontabili. A fare da contraltare ci pensa la gara principe, se così si può definire, di giornata al femminile, ovvero Croazia-Serbia. A discapito della partita disputata dai maschi alla prima giornata, l'incertezza in questa gara regna sovrana per tutta la prima metà di gara chiusasi con un pareggio, dove la Serbia è costretta addirittura ad inseguire una Croazia non così brillante come poteva sembrare nella prima frazione. La tripletta della solita Vukovic abbatte ogni speranza croata di ritornare in partita e il finale di match è tutto per la Serbia che arrotonda il punteggio sino al risultato di 8-4 alla fine. Dunque, situazione nel girone B con Spagna e Italia a punteggio pieno a quota 6, con Germania e Serbia ad inseguire a 3 punti, mentre Francia e Croazia si assestano all'ultima piazza a quota 0. Per gli uomini il risveglio di Belgrado è tinto di emozioni. La sfida della mattina tra Germania e Georgia è stata davvero una bella compagnia per una colazione assolutamente alternativa quest'oggi. A discapito dei pronostici è la Georgia a guidare il gioco nelle prime battute con un parziale di 3-0 che è un'autentica doccia fredda per i tedeschi rimasti nella prima frazione e ancora probabilmente negli spogliatoi. I ragazzi di Wessinger rosicchiano lo svantaggio nel giro di due tempi grazie a un Nosek autentico trascinatore. Il finale di gara vede la Georgia nettamente estremata dai ritmi imposti dai tedeschi che suonano il Requiem a due minuti dal termine con Matteo Kucz che chiude tutto sul finale di 11-9 rilanciando la candidatura tedesca alla seconda piazza da giocare a questo punto con la Romania a venerdì. Proprio i rumeni oggi cercano di fare da Gosta Fesse i danni del Settebello ma i ragazzi di campagna dopo un avvia rilento ci mettono davvero poco a ridimensionare l'avversaria concedendosi un po' di più nel finale quando aveva un ampio margine da gestire sino ad arrivare all'11-5 finale guadagnando i tre punti preziosi per la qualifica da leader del girone C. Nettamente più devastante l'azione dei greci sulla piccola Turchia che col 21-6 incassato quest'oggi si candida come probabile avversaria del Settebello negli ottavi di finale. L'ultima parola in questo secondo giro della fase preliminare a Gironi spetta l'Ungheria che affronta la Russia nell'ultima gara di giornata. Attimi di stupore o panico in base alla vostra scelta del sostegno nella gara di questa sera ad inizio gara appunto con la Russia che si impone con un secco 4-1 nella prima frazione mostrando un'Ungheria in puro stile Bill all'apice di tarantiniana memoria all'apice del suo masochismo. I Magiari però non si perdono d'animo e impiegano ben due tempi per tornare incareggiate a sorpassare l'avversaria assestandosi poi nell'ultima frazione con un controllo talmente così, talmente naturale che quasi fa dimenticare il quasi disastro compiuto all'inizio partita. Morale della favola, nel girone di Ungheria che si appaia alla Grecia in vetta al girone di con 4 punti con la Russia subito dietro a 3 punti e Turchia fa un allino di coda a quota 0. e con questo direi che per oggi è tutto e vi do appuntamento a domani per la quinta giornata di gare nella quale il tabellone della fase eliminatoria degli uomini inizierà a prendere forma con gironi A e B che chiuderanno ufficialmente i battenti con gli ultimi incontri. Un abbraccio e un saluto dalla calottina parlante.